Persi. Acliss si lanciò contro Persi, che per una frazione di secondo pensò, beh, tanto sono fatto di fumo. Mica può toccarmi, no? Immaginò le parche nell'Olimpo, che ridevano per quella pia illusione. Pivenlo! La dea gli conficcò gli artigli nel torace, procurandogli un bruciore acuto come acqua bollente. Persi inciampò, ma non era abituato ad avere un corpo di fumo. Le gambe si muovevano troppo lentamente, si sentiva le braccia come fazzoletti di carta. Preso dalla disperazione, provò a lanciarle lo zaino, pensando che magari si sarebbe solidificato per aria, ma non ebbe questa fortuna. Lo zaino cadde a terra con un lieve tonfo. Acliss ringhiò, preparandosi a un altro salto. Gli avrebbe staccato la faccia a morsi, se Annabeth non l'avesse assalita, urlandole in un orecchio «Ehi!». La dea sussultò e si girò verso il rumore. Si scagliò contro la figlia di Atena, che però si muoveva meglio di Persi. Forse Annabeth non si sentiva altrettanto fumosa, o forse era solo più addestrata a combattere. Viveva al campo mezzosangue dall'età di sette anni. Forse aveva frequentato dei corsi che Persi non aveva mai seguito, tipo combattere con un corpo parzialmente fatto di fumo. Annabeth si tuffò dritta fra le gambe della dea e si rimise in piedi con una capriola. Acliss si girò e l'attaccò, ma lei riuscì a schivarla di nuovo come un matador. Persi era talmente allibito che perse una manciata di secondi preziosi. Rimase a fissare Annabeth in versione cadavere che, pur avvolta nella foschia, si muoveva veloce e sicura come sempre. Poi capì perché lo stava facendo, per guadagnare tempo, e questo significava che lui doveva darle una mano. Mille pensieri gli frullarono per la testa mentre tentava di trovare un modo per sconfiggere la disperazione. Ma come poteva combattere se non poteva toccare niente? Al terzo attacco di Acliss Annabeth non fu molto fortunata. Tentò di spostarsi di lato, ma la dea le afferrò un polso e la strattonò, scaraventandola a terra. Prima che Acliss riuscisse a colpirla, Persi avanzò, gridando e brandendo la spada. Continuava a sentirsi solido quanto un fazzoletto di carta, ma la rabbia lo aiutava a muoversi più velocemente. «Ehi, allegria!» urlò. Acliss si voltò, lasciando andare il braccio di Annabeth. «Allegria?» «Esatto!» Persi si chinò mentre Acliss cercava di colpirlo alla testa. «Sei la gioia fatta persona!» Acliss si scagliò di nuovo, ma era sbilanciata. Persi arretrò di un passo, allontanando così la dea da Annabeth. «La piacevolezza!» gridò. «La delizia fatta persona!» Acliss trassalì e ringhiò. Seguì il semidio, ma con passo incerto. Ogni complimento sembrava sferzarla come una manciata di sabbia in pieno viso. «Vi ucciderò lentamente!» grugnì, gli occhi e il naso gocciolanti e le guance ricate di sangue. «Vi farò pezzi e vi offrirò in sacrificio a notte!» Annabeth riuscì a rimettersi in piedi e prese a rovistare nello zaino. Persi voleva darle più tempo. Era lei la mente. Era meglio che Acliss attaccasse lui, mentre Annabeth escogitava un piano fantastico. «Tenerona!» gridò. «Cucciolotta! Orsetto!» Acliss emise un ringhio strozzato, come un gatto a cui ha appena preso un colpo. «Vi darò una morte lenta!» urlò. «Una morte d'avvelenamento multiplo!» Tutti intorno a lei spuntarono piante velenose che scoppiavano come palloncini troppo gonfi. Spillarono una linfa verde-bianca che si raccolse in pozze e cominciò a defluire per terra in direzione di Persi. I loro effluvi dolciastri gli davano alla testa. «Persi!» La voce di Annabeth sembrava lontana. «Ehi, gioia! Miss simpatia! Raggio di sole! Da questa parte!» Ma la dea della disperazione si era fissata su Persi, che tentò di indietreggiare ancora. Purtroppo, l'icore velenoso scorreva tutto intorno a lui, incendiando l'aria con i suoi fumi fetidi. Persi si ritrovò bloccato su di un'isola di polvere poco più grande di uno scudo. A qualche metro di distanza, anche il suo zaino fumava, dissolvendosi in una pozzanghera appiccicosa. Persi cadde su un ginocchio. Avrebbe voluto dire ad Annabeth di fuggire, ma non riusciva a parlare. Aveva la gola secca come foglie morte. Avrebbe voluto che ci fosse dell'acqua nel tartaro, una bella pozza in cui tuffarsi per guarire o magari un fiume da controllare. Ma in quel momento si sarebbe accontentato di una bottiglia di acqua minerale. «Sarete dati in palto all'oscurità eterna!» ringhiò Acliss. «Morirete fra le braccia della notte!» Persi era vagamente consapevole del fatto che Annabeth gridava, lanciando a casaccio contro la dea pezzi di carne secca di dragone. Il veleno bianco e verde continuava a formare pozze. Piccoli ruscelli stillavano dalle piante, mentre il lago velenoso diventava sempre più grande. «Lago?» si disse Persi. «Ruscelli! Acqua!» Probabilmente aveva solo il cervello in pappa per via dei vapori velenosi, ma gli scappò una risata roca. Il veleno era liquido. Se si muoveva come acqua, in parte doveva essere formato da acqua. Ripensò ad alcune lezioni di scienze. Il corpo umano è composto prevalentemente di acqua. Ripensò a quando aveva estratto l'acqua dai polmoni di Geson a Roma. Se era riuscito a controllarla allora, perché non tentare con altri liquidi? Era un'idea folle. Poseidone era il dio del mare, non di tutti i liquidi a caso. Ma del resto il tartaro aveva le sue leggi. Il fuoco era potabile. Il terreno era il corpo di un dio delle tenebre. L'aria era acida. I semidei potevano essere trasformati in cadaveri di fumo. Perché non tentare? Ormai non c'era più niente da perdere. Persi lanciò un'occhiata alla fiumana di veleno che si riversava da tutte le parti. Si concentrò così tanto che qualcosa dentro di lui si spezzò, come se una sfera di cristallo gli fosse esplosa in mille pezzi nello stomaco. Il calore gli inondò il corpo. La marea di veleno si bloccò. I vapori si allontanarono da lui e tornarono verso la dea. Il lago di veleno rotolò verso di lei, formando minuscole onde rivoli. Acliss strillò. Che roba è? Veleno, rispose Persi. È la tua specialità, giusto? Si alzò, la rabbia che gli ribolliva sempre di più nello stomaco. Mentre la marea di veleno rotolava verso la dea, i vapori cominciarono a farla tossire. Gli occhi le lacrimavano ancora di più. Oh, bene! Si disse Persi. Altra acqua! Immaginò che il naso e la gola di Acliss si riempissero con le sue stesse lacrime. La dea soffocò. Io... La marea di veleno le arrivò ai piedi, sfrigolando come gocce d'acqua su un ferro caldo. Acliss gemette e inciampò. Persi! Gridò Annabeth. Era arretrata fino all'urlo del baratro, anche se il veleno non aveva dato la caccia a lei. Sembrava terrorizzata. Persi ci mise un po' a capire che era lui a terrorizzarla. Fermati! Lo supplicò Annabeth con voce roca. Lui non voleva fermarsi, voleva soffocare la dea. Voleva stare lì a guardarla affogare nel suo stesso veleno. Voleva vedere quanta disperazione Acliss riuscisse a sopportare. Persi, ti prego! Annabeth aveva la faccia palli e cadaverica, ma i suoi occhi erano gli stessi di sempre. L'angoscia che esprimevano fece svanire la rabbia del ragazzo. Persi si girò verso la dea. Ordinò al veleno di ritirarsi, creando un minuscolo sentiero per tornare indietro lungo l'orlo del baratro. Vattene! Gridò. Per essere uno spirito emaciato, Acliss correva piuttosto in fretta quando voleva. Avanzò lungo il sentiero, cadde a faccia in giù, si rialzò e con un gemito si lanciò nelle tenebre. Non appena se ne fu andata, le pozze di veleno evaporarono. Le piante avvizzirono fino a trasformarsi in polvere e furono spazzate via. Annabeth raggiunse Persi barcollando. Sembrava un cadavere avviluppato dal fumo, ma quando gli afferrò le braccia era parecchio solida. Persi, ti prego! La sua voce si incrinò in un singhiozzo. Ci sono cose che non si possono controllare. Ti prego! Il corpo di Persi era ancora a carico di adrenalina, ma la rabbia stava svanendo. I mille pezzi di cristallo rotto dentro di lui cominciarono a smussarsi ai bordi. Sì, le disse. Sì, va bene. Dobbiamo andarcene da questo baratro. Se Eccliss ci ha portato qui per una specie di sacrificio. Persi tentò di pensare. Si stava abituando a muoversi con la foschia della morte intorno. Si sentiva più solido, più se stesso. Ma la mente sembrava ancora imbottita di ovatta. Ha detto che voleva darci impasto alla notte. Che intendeva dire? La temperatura calò. L'abisso davanti a loro parve sospirare. Persi afferrò Annabeth per un braccio e arretrò dall'orlo del baratro, nello stesso istante in cui una presenza emergeva dal vuoto. Era una forma così vasta e tenebrosa che Persi ebbe la sensazione di capire il concetto di buio, per la prima volta. Immagino che intendesse dire notte, con la N maiuscola, disse all'oscurità, con una voce femminile morbida come la fodera di un sarcofago. Dopotutto, io sono l'unica.